Oggi inizierò questa serie Va bene, iniziamo con il nome del mondo Aspetta, lo chiamo... The Italian Gaming World Aspetta Ecco fatto Sopravvivenza, altre opzioni del mondo Strutture on, tipo on, trucchi off, cassa off Va bene, così va bene, ok Crea il mondo Aspettiamo che si crea Ecco qui ragazzi, mondo si è creato E con me c'è anche Optifine E bene a tutti ragazzi, oggi inizieremo a fare questa serie di sopravvivenza io e Marte Cioè insieme la insieme Va bene ragazzi, faccio entrare nel mondo anche Optifine Vedi, eccomi ragazzi E ho fatto entrare ad Optifine Ecco la gallina innamorata di Optifine Va bene, dai Oddio, è notte, quasi notte Andiamo, vieni, seguimi Ti sta allagando un po' Andiamo, gli alberi ci sono Andiamo verso gli alberi Ecco, là ci sono, andiamo, dai Senti, facciamoci un piccone, una pala e scendiamo sottoterra Hai visto almeno qualche pecora? No, no Oddio Ma ho visto un sacco di... Fai, fai quello che ti ho detto, veloce Ok Ragazzi, noi questa, questa, survival, cioè sopravvivenza La dedicheremo soprattutto alle costruzioni Facciamo una specie, una specie di città o qualcosa E non ci sarà solo Optifine Ci sarà con noi anche Zacchepp Ma oggi non c'è Perché sta male, quindi non ho potuto Non ho potuto fare con noi video Dai, comunque ho di legno... Oh, l'hai fatto il tavolo da lavoro? Lo sto facendo Va bene, dai, fallo, mettilo, veloce È notte, dai Ecco, vieni Mettilo, mettilo, almeno prendo qualche gallina Ma che cacchio sto a fare Guarda che gallina Uccidiamo Uccido qualche gallina Aspetta, metto Normalmente C'è già uno zombie che sta venendo verso di me Io lo vedo Vuoi che ti faccio un piccone e un'altra? Sì, sì, fammi tutto arrivo io Mentre uccido un po' di pecore Eh, pecore Allora mi mangio questo Oddio Scappa, mi sto sto venendo quello zombie piccolo Veloce Due, no, uno Dai, prova ad ucciderli Tu mentre scava, scava o fai quello che vuoi Oddio Oddio Un secondo tu Ecco qui Ecco qui Eh, se guarda le galline Un attimo, se scavi sottoterra Forse qualche Dai, devo uccidere Uccidendo queste galline Uccidi, dai, veloce Mentre Eh, la palla non me l'hai fatta Vabbè, me la faccio da solo C'è uno quello Eccolo qua, io l'ho fatto Poi vieni da me Mi è piena di moto Ma posso salire Ma no Che letro del calcio Dai, vieni, vieni Mettiamo a cuocere un po' di carne Da bene, non ho spedito Non ho spedito C'è qualche carbone Aspetto, ho sbagliato, levati, levati Apposto, apposto, così va bene Eh, aspetta, faccio una piccola cosa, un attimo Prendi un po' di petra, prendi un po' di petra, otto di petra Ok, dammi il tavolo da lavoro E là sopra, lo vado a prendere, lo stesso po' Ok Ok, ragazzi, ecco ci siamo Abbiamo letto un video in volta per non fare troppo minuti Ecco ci siamo fatti anche la carbonella E ora metto il cibo a cuocere Allora faccio qua Dammi qualche antidilegno Ok, tieni Vabbè mi faccio anch'io le cose in pietra Eh, mi faccio il piccone, questo, questo Eh, questo Mi sono fatto tutto Allora la spada qui Il piccone qui Lascia qui La palla non l'ho fatta E anche io l'ho fatta La palla ecco l'ho fatta Si, l'ho messo qua a cuocere Vabbè, uno per me e uno per te, tieni No, io c'ho due pure Allora dammi, dammi Ti metto qui Ecco qua c'è del carbone Ok, dai, dai, dai Ragazzi, i nostri video saranno di circa dieci minuti l'uno Eh, che questo già quasi sta finendo Dai, ancora Come sta finendo Ancora, ancora 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 No, abbiamo fatto Per ora sei e venti Di sei e venti minuti Eh, il tuo coso è pronto Ok Io mi faccio torce Allora ho fatto qui Io vado a fare caccia Tu, resta qui No, non si vengo con te, dai No, non venire No, facciamo uno Ti faccio Attento, c'è un ragno dietro di te Oddio, se ti fa cadere Grazie Quanti cuori hai? Te Scalappa, vieni, tu non sei da PvP, vieni Sì, quando sono uscito avevo quattro cuori Dai, vieni Dobbiamo aspettare il giorno Dai, aspettiamo il giorno e poi iniziamo E aspetto pure che si fanno i gol Perché c'ho solo cinque cose Ok ragazzi, abbiamo passato tutta la notte aspettando che arriva il giorno Anzi, vabbè dai, è giorno Ma a brutto tempo Dai, andiamo a cercare un po' di cibo Vediamo se troviamo delle pecore Ok, andiamo Bene, andiamo sempre dritto, non ci dobbiamo perdere Ok, dai, andiamo Ragazzi, cosa? Facciamo la ponsola, quindi Sì, sì Ragazzi, dal secondo episodio inizierà a fare con noi video anche Zack Hepp Ok Ok, vedo il tempo Beh, è certo, non c'è la ponsola Vero Oh, se vedi che caverna Ah, no, brutto, non lo so Ragazzi, nella nostra piccola base dove abbiamo fatto Dove abbiamo messo le fornace, tutto ho messo Ho una piccola gallina intrappolata in un buco La voglio fare diventare anziana Eh, mi sta allaggando Sei un napo, Master Come? Sei un napo Sì Non hai trovato niente da male, hai messo quella gallina Eh, 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 eh Ok, vado a prendere quale canne da zucchero, comunque ti ti ricordi ancora la strada per andare a casa Parla un poco piano, così ti capisco Ti ho detto Sì, sì, lo sai ancora la strada per andare verso casa Sì, sì Io forse no, 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 sì, sì Ok, aspetta così Allora, un attimo che chiudo la porta Io non sto trovando un casco Vedo, mi sto trovando di tutto Vabbè, io torno nella nostra base che forse mi sono perso Ok, pure io Ci incontriamo lì, dai Anche non ho provato un casco, ma Ragazzi, eh Nel prossimo episodio faremo la casa Eeeh Da Italian Gaming è tutto Vi salutiamo E al prossimo episodio Ciao, ciao Cosa hai detto? Arrivederci, ragazzi Ok, ciao, ciao, ragazzi Ciao